Oggi giorno si sente spesso parlare di influencer. Si tratta di persone che hanno la capacità di influenzare i comportamenti e le scelte di un determinato gruppo di persone. Gli influencer usano i social come Instagram, YouTube o un blog personale per raggiungere migliaia di persone che li seguono, i cosiddetti followers. Ma cosa li rende famosi? Diventano celebri se ciò che dicono o pubblicano riesce a influenzare l'opinione o lo stile di vita di migliaia se non addirittura milioni di persone. Vi porto un esempio. Di recente la famosa influencer Chiara Ferragni ha visitato la Galleria degli Uffizi di Firenze. La Ferragni che è seguita da 20 milioni di followers ha poi rivolto un invito a visitare il museo. Secondo il direttore del museo la visita di Chiara Ferragni non ha fatto altro che attirare nuovi visitatori. Il direttore ha detto da venerdì a domenica abbiamo avuto 3.600 tra bambini e ragazzi fino ai 25 anni. Nel weekend passato erano stati 2.839. Dunque stavolta sono venuti a trovarci 761 ragazzi in più con un aumento del 27%. Ecco questo è un esempio di come un influencer può appunto influenzare gli altri nelle loro scelte. Ma mi chiedo chi è stato oppure chi è il più grande influencer di tutti i tempi. Se dobbiamo usare come parametro il numero dei seguaci sul gradino più alto del podio ci sarà un uomo vissuto 2000 anni fa. Vi leggo qualcosa del suo profilo. È nato in una stalla. Suo padre era un falegname e sua madre una donna pia. Ancora bambino dibatteva su vari argomenti con adulti molto istruiti su argomenti religiosi. Da adulto non aveva una casa stabile ma girava per i villaggi per offrire aiuto e le sue opinioni a chi aveva voglia di ascoltarlo. Durante la sua vita ebbe tanti followers ma 12 in particolare lo seguirono dovunque anche se uno di essi lo tradì. Le autorità alla fine lo arrestarono come agitatore di folle ma non riuscirono a stabilire di che colpa accusarlo a parte il fatto che lui dichiarava di se stesso di essere il figlio di Dio. Lo crocifissero con un paio di altri criminali e rimase solo perché tutti compresi i suoi più affezionati followers lo abbandonarono. Quando morì a 33 anni molti pensarono che non ne avrebbero sentito più parlare. D'altronde lui non aveva mai fatto affidamento su gruppi di tendenza per consigliarlo sulle mode correnti né su imprenditori che spendessero migliaia o milioni di euro per promuovere il suo marchio o su consiglieri per migliorare la sua immagine e non aveva tra l'altro avuto bisogno dei social media per mantenere informati i suoi seguaci. Eppure lui stesso un giorno disse io quando sarò innalzato dalla terra attirerò tutti a me. Queste sono le parole di Gesù riportate nel Vangelo di Giovanni al capitolo 12 verso 32. Come si può spiegare il fatto che dopo duemila anni Gesù Cristo sia ancora la più grande celebrità della terra? Forse è veramente risorto dai morti? O forse perché lui era veramente il figlio di Dio? Possiamo scegliere di credere o non credere in Gesù, di seguirlo o di rifiutarlo. Possiamo amarlo oppure disprezzarlo ma su una cosa possiamo essere tutti d'accordo e cioè che la sua vita ha cambiato il corso della storia di miliardi di persone in tutto il mondo. Posso testimoniare anch'io che Gesù ha cambiato la mia vita e tanti come me possono testimoniare che Gesù non è stato solo un grande influencer, non è stato solo un grande uomo ma qualcosa di più. Gesù è quello che diceva di essere, il figlio di Dio, il Messia promesso, il Salvatore del mondo. Buona giornata a tutti, Dio vi benedica.